Buon pomeriggio a tutti, sono le ore... Chi lo sa, vediamo se si vede... 18.51, sono quasi le 7. Allora, oggi in realtà non vi presento un libro, mi è preso di fare una diretta così. Allora, siccome per me sono giorni un po' particolari, sono successe delle cose a livello anche personale, ma che non vi sto a dire, perché insomma... Ognuno ha diritto di vivere le sue cose e non viverle, e chi ci segue ha anche diritto di non saperle. Ho il dovere di non saperle. Allora, oggi è una giornata un po' così, diciamo di riposo, mettiamola così. Stavo gironzolando sulle storie di Facebook. E su una storia ho visto la diretta di ieri di uno di questi guru che sono nati in questo periodo, no? Dove con un guru intendo persone che dicono come comportarsi in questo periodo un po' strano così. Cosa fare, cosa non fare. Il seme che cade nella terra è poi come una spada che assaggia la terra, poi dopo si dischiude. Per carità, sì, è bello sentirle dire di quando in quando, ma io preferisco sentirle dire da delle persone che minimamente se ne intendono. C'è mia nipote Lidia che ha aperto un bellissimo sito di yoga e nutrizionismo, non so se ci si dice nutrizionismo, senza limitismo, comunque un bel sito. Cioè, insomma, da persone che sono qualificate e fanno quello, no? Yoga per la maternità, tutte queste cose. C'è la mia amica Pamela Golin, lo so, che è un po' in antitesi con mia nipote, ma non importa. A me sono persone che piacciono tantissimo. Io Pamela Golin veramente quando parla già mi dà una gioia, perché comunque questo tono di voce così, me lì, fluo, carina, tutto quanto. E niente, meditavo su questi sistemi che hanno queste persone, questi guru, no? Questi guru che sono nati così durante il periodo del lockdown, che io ho quasi dismesso totalmente, ma quasi subito, eh. Cioè, ce n'era uno che sembrava quasi il pelatone, no? Quello di... Delle parti della Toscana, che per carità di Dio. Ma sì, inizialmente ci diceva delle cose che volevamo sentirci dire. Poi quando uno si documenta un po', sapete com'è. Questa puntata non ha a che fare con un libro, sappiatelo. E così mi ho preso adesso. Allora ho smesso a un certo punto, perché poi insultava anche le persone un po' più deboline, un po' più tranquille. E si esprimevano delle paure dicendo che erano delle caprette, delle pecorine, delle cose così. Insomma, non mi pare il caso di fare del male gratuitamente alle persone. Poi quest'altro con la coda dietro, ricciolino, che... Io non riesco mai a finire una sua diretta. Cioè, magari pure voi non riuscite a finire una mia diretta, perché durano 30-40 minuti delle volte. Però io ci penso, se ascoltare... Poi io dico, cavolate, ci sono i gatti, vi propongo dei libri, dico quello che penso dei libri. Penso che sia abbastanza interessante quello che faccio. Ma stare 44 minuti e sentire questo che dice che c'è il seme che cade. Cioè, ha fatto praticamente due minuti di... Una musica terrificante per aspettare che arrivassero in diretta almeno 1600 persone. Allora, adesso io sono in diretta, ma penso non ci sia nessuno che mi sta guardando, ma non me ne credo niente. Verrete poi a guardarmi, ad ascoltarmi. Questo lo so, perché ormai sono, cos'è, 30-34 presentazioni di libri e so come funziona. Almeno la mia pagina, no? Quindi... E poi chi c'è ancora? Uno, zanzunz... Qualcosa con la Z che, per carità di Dio, ho ascoltato una sua diretta. Poi ho detto, basta. Possibile che ci dobbiamo proprio... Va bene che è il popolo che deve svegliarsi, però cerchiamo anche di ascoltare delle persone che sappiamo parlare. Magari, oh mamma, ci sono le notifiche. Vediamo se riusciamo a levarle. Sì, sono riuscita. Cioè, che non siano proprio così... Grezze, no? Insomma, poi mi sono iscritta al canale Telegram, poi a tempo zero mi sono disiscritta. Perché ho detto, mamma mia, che roba. Che rottura. 8.000 notifiche in una giornata, ma dai, per favore. Niente, mi chiedevo così se posso diventare anche io una gura. Una gura. Sapete, vi racconto una cosa. Nel mio paesello d'origine, a Rondissone, c'è una zona, un quartiere che si chiama La Gura. La Gura. Voglio fare La Gura. C'è il fazzoletto che sbucca da me. Guardate che gura che sono. No, io non voglio diventare una gura, no? Però, è qualche giorno che ci penso. Sapete che qua ogni tanto io faccio anche trasmissioni, non solo proprio sui libri, ma anche su altre cose. A parte i film, tutte queste cose qui, ma anche cose che non siano... Combinazione, ogni volta che io devo parlarvi di porrucche, ho questa qua viola. Non so perché. È il karma, forse, no? E allora, molti di voi, a seguito di queste dirette che ho fatto, dove parlavo delle parrucche e della mia esperienza parruccante, parrucchevole, parrucchistica, non so come chiamarla. Mi hanno scritto, mi hanno detto, ah, vabbè, però è interessante. Allora, rimani, rimani... Io non voglio andare sul sociale, non voglio andare su queste cose qua. Ci sono già i guru per quello. Io faccio la gura e parlo di parrucche. Interessante, perché sei sempre in ordine. Vabbè, adesso non sono in ordine, perché tutto il giorno che praticamente passo dal divano, al letto, alla poltrona. Giusto ho lavato i piatti, così ho dato da mangiare ai miei bimbi, uno per uno. Perché Makiki, lui, bisogna dargli da mangiare in una certa maniera. Puoi dargli le palline dei fiori di bacca dentro al mangiare. Oggi pomeriggio sappiate che sono riuscita a dargli le otto palline anche dentro i croccantini, che è una cosa impossibile, credo, nel mondo. E io sono pure riuscita. E poi Giunic è un po' offeso perché ho tolto i croccantini, quelli che gli piacevano tanto, ma potevano fargli male. Allora ho tentato di blandire anche un po' lui con qualcos'altro. E poi fai mangiare questo, poi fai mangiare quello, la parla merenda. Insomma, le mie giornate, anche quando sono di riposo, sono sempre abbastanza, come dire, movimentate. Ritorniamo a noi. In tanti di voi, in tante di voi soprattutto, mi hanno scritto, appunto, cavolo, bello, tutte le volte di presenti con un colore diverso. Comunque sia, non è tanto il fatto del colore diverso, quanto piuttosto il fatto che uno è a posto. Ecco, questo mi hanno sottolineato. Avrò ricevuto, non lo so, una ventina di messenger, che non è poco, voglio dire, dove mi chiedevate diverse cose. E si puntava molto su questa cosa. Allora, io oggi non vi faccio esempi proprio pratici, perché vorrei proprio un giorno farvi vedere bene come sono fatte queste parrucche, anche all'interno, come si regolano, perché si regolano, come ci stanno in testa senza cascare e tutto questo. Cosa possiamo fare per farle stare ancora meglio in testa, che non ci caschino veramente, tipo quando dobbiamo fare sport, andiamo a ballare. Sapete che io vado a ballare continuamente. Oppure quando facciamo anche altre cose che ritorniamo, che richiedono un certo impegno. Ecco, diciamo, qua ci sono le sveglie che sono. Per ricordarmi i fiori di bacche, che devo prendere i fiori di bacche. Ho iniziato questa cosa e sto riuscendo a farla abbastanza bene. Magari non all'orario preciso, perché adesso sto parlando, però a breve le prenderò. Allora, innanzitutto, adesso sarò molto breve, parlo qualche minuto e poi smetto. C'è ancora un grosso tabù qua in Italia riguardo a questa cosa della parrucca. Cioè, chi porta la parrucca vuol dire che o è malato, o al cancro, oppure pelato, all'alopecia, tutte queste cose. Non c'è ancora proprio, sta cominciando leggermente. E le donnine, specialmente, stanno cominciando a... Ehi! Cannella! Ad annusare la situazione. Non mi piace, eh, questo ringhio qua. Basta! Non ti fa niente, Giuni. Vieni qua, Giuni, Giuni, Giuni. Vieni qui da mamma, dai. Ecco, così, vieni qua dalla mamma, bravo. E stanno cominciando ad annusare il fatto che è una buona soluzione. Allora, in America, praticamente, non dico che le parrucchiere siano scomparse, ma sono una cosa abbastanza di elite, no, diciamo. E quindi sono molto costose. Qui quasi, eh. Siamo lì. Se sentite il sottofondo musicale, perché Cannella è Junior che si sta a nord. E quindi, comunque, affrontare una spesa relativamente, più o meno, così così, e essere spesso e volentieri, o comunque quando vogliamo e ne abbiamo bisogno, come dire, in forma e in pista, senza dovere per forza andare dalla patina di nutricio, non è una cosa, poi, così malaccia. E, appunto, all'estero è molto più praticata rispetto qui da noi. Anzi, qui da noi io credo che ci siano proprio poche persone che indossano la parrucca. Mentre invece, negli Stati Uniti, quasi tutte le donne per uscire, andare a fare la spesa, o, che caspita ne so, andare dal medico, andare a uscire con le amiche o, che caspita, si mettono alla parrucca. Sono a posto, in due minuti netti sono a posto, non ho bisogno di andare a spendere ulteriori soldi e nemmeno di perdere un sacco di tempo, poi, tra l'altro, perché poi si perde. Per far giustificare la spesa dalla pettinatrice bisogna portarla per le lunghe e quindi bisogna perdere una fraccata di tempo, due ore, tre ore di dentro, una cosa dell'ostante. Comunque, addirittura le grandi attrici, che ne so, quella che ha fatto il cigno a nero lì, adesso con Thor, Love and Thunder, come si chiama, non mi ricordo mai. Vabbè, comunque questa qui, Natalie Portman, forse sì, poi quella, sempre della Marvel, con i toppelli rossi, che fa quella, mi venisse un nome stasera, vabbè, comunque, Elizabeth Olsen, poi la Jennifer Lopez, cioè quasi tutte le grandi donne, vive, portano la parrucca, comunque. A casa non lo so, però, durante le loro uscite, di qualsiasi tipo, portano la parrucca. E quindi, dicevano, negli Stati Uniti, non che gli Stati Uniti ultimamente siano un paese da seguire proprio la lettera, perché ragazzi, ce ne stanno facendo di ogni, però voglio dire, questa cosa è una cosa estremamente pratica. Quindi, torniamo là, mi hanno scritto una ventina di persone a seguito di quel video che avevo fatto, dove avevo confessato che i miei cambiamenti di colori non sono altro che parrucca, non sono che io ogni quattro giorni o ogni settimana vado a cambiare il colore dei capelli. Mi hanno scritto, incuriosite da questa cosa, con un tono tipo, ma quasi quasi, no? Quasi quasi anch'io, no? E quindi, boh, avrei quasi in mente, poi, prossimamente, di fare... Io oggi mi sto comportando come se fosse domenica, in realtà non è domenica. Posso farlo oggi, quindi non ho fatto. E quindi avrei l'intenzione di fare una puntata dove spiego, appunto, i costi relativi, i costi, quelli più alti, quelli più bassi, i costi medi, come sono, appunto, fatte, strutturate proprio fisicamente, le parrucche, cosa ci si può fare, come si lavano, come si mantengono un po' a carrucce, cosa bisogna fare se ci vergogniamo abbastanza e non vogliamo che gli altri capiscano che è una parrucca, e tutte queste cose qua. Come metterla bene, perché non si veda che proprio una parrucca, cioè non andate a mettere la frangia qua, se no capiscono che siete una parrucca. O siete un personaggio di Star Trek, oppure avete la parrucca. Insomma, bisogna cercare di metterla in un modo che risulti il più naturale possibile. No, io controllo, controllo la mia family, la mia family. E quindi cercherò di fare delle puntate, non troppo lunghe, dove spiego, appunto, tutte queste cose, perché se posso essere utile. Addirittura, qualche giorno fa, ho incontrato due signore per strada che mi hanno detto, ma ha cambiato le colori di capelli, quella, che belli che sono, io avevo quella nera, mi pare. Ho detto, no, no, guardate, in realtà io fa, eh, ma sai che quasi così l'avevamo sospettato, perché cambiare così spesso, tu non hai mai cambiato, sei sempre stata bionda, adesso all'improvviso cambi sempre colore, così. Ma com'è questa cosa? Noi abbiamo questi quattro spinaci, così, io mi facevo la codina, mi faccio quasi schifo. Cioè, si parlava così per strada. E allora mi sono detta, comunque sono interessate queste persone e non hanno, si comincia piano piano a non avere più questo pudore, no? A questa cosa, perché, cioè, almeno non mi frega niente di dire che ho la parrucca. Tanto io sotto i miei capelli li ho, adesso sono già lunghi così. Non so se tagliarli o no, perché cominciano a darmi un pochino fastidio. E siccome, vi dico solo questa cosa di teoria, poi dopo rimando alla prossima volta, e siccome per indossare una parrucca in genere si mette una specie di calottina di rete, è un incubo cannello, va, lei lo sa perfettamente come sto riprendendo. Quindi ha fatto in modo di mettersi lì. Giustamente, eh, per carità. Non si ha mai. Delle calottine dove tengono su i capelli, così non si vedono qui, non si vedono qui, e stanno un po' più a posto. Invece, io non amo molto indossare queste calottine, quindi adesso cominciano a darmi un po' fastidio i capelli. Quindi sto meditando se ritagliarmeli oppure farmeli crescere per l'inverno, comunque che fa più freddo, tenere anche queste calottine. Non lo so. E niente, vi darò qualche spiegazione per te, qualche spiegazione così pratica su questi dispositivi. Non ne chiamare dispositivi, su questi oggetti di sollazzo, oggetti d'arte anche, no, se vogliamo, perché poi si possono anche acconciare. Che è successo? Giuni ti ha fatto qualcosa? No, come al solito, perché non ti fa mai niente, Giuni. Sei tu che sei una ciosto. Sei una vecchia zitella inacidita, sei. E quindi, così, per spiegarvi un attimino come funziona la cosa, e anche per permettervi se avevate una mezza idea di farlo o non farlo. Non è necessario che vi tagliate i capelli, per mettere la parrucca. Se li avete lunghi, come vi ho detto, ci sono queste calottine di rete, oppure di quel materiale molto simile ai collan, per cui voi vi mettete i vostri capelli lunghi, quanto volete, sotto lì, e poi indossate la parrucca. Non è necessario essere né pelati e né avere i capelli cortissimi per poter indossare la parrucca. Io me li sono fatti cortissimi per i motivi che... Vi metterò poi il link qui sopra per i facebookiani, qui sotto per gli youtubiani, della scorsa puntata in cui ho parlato di parrucche, così vi rispolvererete un po' la memoria sul motivo per cui io ho deciso di indossare a un certo punto la parrucca. E nulla. Siete d'accordo che io faccia questa cosa? Puntate brevi dove spiego una cosa per volta, no? Magari. Così almeno se avete... Diciamocelo francamente. Stiamo, siamo, siamo stati, siamo e andremo sempre di più verso un periodo piuttosto di austerity, se vogliamo, no? E fare una tinta su un cappello lungo, più o meno come questo, che poter... È sicuramente lungo come quelli che avevo io. Costa parecchio, eh. Se non la si fa, almeno una volta ogni mese, mese e mezzo, si sta male, brutta. Si vede la crescita, ci sembra vecchi e tutto quanto. E costa una barca di soldi sui 70 euro, almeno io pagavo così da questa brava pettinatrice che mi ha rovinato i capelli. E quindi, invece, oddio, una parruca che poi bisogna anche saper valutare un attimino. Adesso se prendete quelle... Ma poi vi spiegherò. Quelle di capelli veri è un cosa, per carità di Dio. io le ritengo comunque inarrivabili e anche... Che succede? Inarrivabili e anche un tantino inutili questo... perché alla fin fine sono quasi uguali a quelle di capelli sintetici. Sono molto più delicate e bisogna trattarle in modo molto più... più accurato, con prodotti molto più accurati. Quindi, cioè, io proprio ci rinuncio già da in partenza a questa cosa. E niente, allora, io per adesso vi lascio qui, non voglio tediarvi oltre. e mi è venuto così di fare questo perché ho visto il guru e ho detto ma andiamo a fare un po' la gurava sulla pagina di quella donna e la libreria mancata. Poi, ovviamente, questa pagina, lo sapete, rimane sempre dedicata ai libri. Ai libri e ogni tanto a qualche film, che sia chiaro, però ogni tanto vi butto anche lì, visto che avete dimostrato un certo interesse sia... Sì, sto diventando buio, a livello qui, appunto, come si dice? Com'è che oggi non mi vengono i termini? A livello di internet, che è a livello proprio così amicale alla persona che incontro la strada, un forte interesse a conoscere questo mondo che è un mondo, effettivamente, quello delle parrucche. E allora io farò in modo di fare delle puntate che parlano di questa cosa. Come indossarle, come sono fatte anche dentro, non solo fuori, perché fuori le vedete, sono fatte così. Dentro hanno tutto... Oh, ma cosa stiamo facendo? Cioè, avere sette gatti in casa è impegnativa. Questo tac-tac che cosa è? perché dentro è fatta in una maniera pazzesca, quindi se dà fastidio, se non dà fastidio, se dà fastidio cosa si può fare, cosa non si può fare. Insomma, cercherò di un po' di accontentare le domande e rispondere alle domande che mi sono state poste sia dal vivo che online. prima non mi veniva la parola. Benissimo, dalla vostra augura temporanea quella donna ha libretto mancata e tutto. Vi saluto e ci vediamo prossimamente con un nuovo libro. Tra qualche giorno preparatevi che c'è un altro libro in arriva. Spengo perché qui tra un po' diventa buio, non mi vedrete più. Parlo poi attualmente che razza di gura sono se sto a buio. Va bene che Draghi ci ha detto che dobbiamo spegnere le luci, però insomma non esageriamo, andiamo ad accendere qualche luce direi a questo punto. benissimo, vi saluto, vi mando un grosso bacione sia a voi amici che mi seguite su Facebook sia a voi amici che mi inseguite su YouTube sono felicissima sia di Facebook che di YouTube perché sono molto molto seguita e sono molto molto felice di questo. Vi ripeto io non ho la levelleità di fare il curo assolutamente ma così allora la cosa dei libri mi piace mi appassiona l'adoro questa cosa che mi è saltata fuori della parrucca mi è saltata fuori perché c'era gente che si domandava ma come mai cambi sempre colore così allora ho voluto spiegare e da questo però è nata tutta una cosa che cresce per cui si vuole sapere il perché il per come come funziona come non funziona se è comodo se è fastidioso se è facile da come dire se è facile abituarci se oppure no se è per tutti se non è per tutti quindi va bene io lo faccio lo faccio veramente volentieri se posso darvi una mano a spendere anche un po' meno soldi per la vostra cotenna lo faccio volentieri vi ringrazio vi ringrazio e allora ci vediamo tra qualche giorno con un altro libro che mi piace tanto 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 come mi piace tanto 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 l'autore che vorrei andare a trovare solo che in un paesino della montagna ma non di qua proprio dall'altra parte dell'Italia quindi se ci vado con la mia panda arrivo con una ruota sola vi saluto vi saluto tanto devo andare a bere e ci vediamo presto ciao a tutti youtube facebookiani non lo so chi c'è chi non c'è vi saluto grazie grazie mille di salirmi